Musica Mangia una polpetta avvelenata in un giardino salvato un cane a Lucrezia di Cartoceto bonificata l'intera area per scovare le esche nascoste. Musica Tenta di inserire il pc privato fra le forniture del comune di Mercatello sul Metauro scoperto e denunciato un dipendente pubblico di 59 anni. Musica Al via nelle marchi i vaccini per le persone più fragili, le forze di polizia e in arrivo altri medici che daranno manforte per il siero domicilio. Musica In calo ai fatturati e l'affluenza al mercato settimanale di Fanno, lo sfogo e la rabbia degli ambulanti rimassi senza ristori. Noi siamo veramente il ginocchio. Musica Penso che se andiamo avanti così nell'arco di quest'anno il 50% degli ambulanti non riapriranno più come il 50% dei negozi altri. Comune di Pesore e Regione presentano l'accordo da 40 milioni di euro per recuperare il San Benedetto, l'ex ospedale psichiatrico chiuso da 40 anni. Musica Buonasera e bentornati sul canale 17 di Fanno TV per una nuova edizione del nostro telegiornale. Apriamo con la storia di Oscar, un cane emeticcio di 8 anni salvato dopo aver ingerito un'esca avvelenata a Lucrezza di Cartoceto. In giornata è partita la bonifica di alcune aree verdi della zona da parte dei carabinieri forestali insieme ai cinofili antiveleno. Tutti i dettagli nel servizio di Letizia Marchionni. Ha ingerito un'esca avvelenata ma fortunatamente è stato salvato Oscar, il cane emeticcio di 8 anni che ieri durante una passeggiata assieme alla sua padrona Lucrezza di Cartoceto, in un'area verde in via Circonvalazione Kennedy, ha ingerito il boccone avvelenato sotto gli occhi della donna che lo ha portato immediatamente dal veterinario. Grazie alla tempestività della padrona ora Oscar sta bene. Mi hanno chiamato dicendomi che sospettavano che il cane loro, anzi non sospettavano, si erano accorti che il cane loro aveva mangiato una polpetta e questa polpetta era diciamo bordata all'esterno di colore verde. Quindi avere un colore verde intenso fa pensare che ci possano essere dei veleni, insetticidi, organo clorurati, carbomati, metaldei, veleni per le lumache. Insomma mi hanno chiamato dicendomi che il cane aveva appena mangiato una cosa del genere e io distinto come penso tutti i veterinari, l'ho fatto venire nell'ambulatorio per farlo vomitare in modo tale così da eliminare subito il veleno ed evitare che possa essere stato assimilato dall'animale. Dopo avergli somministrato dell'apomorfina il cane nel giro di pochi minuti ha vomitato tutto e ha vomitato anche quest'esca. Per cui da lì già l'animale sicuramente si sarebbe salvato, insomma non avevamo dato il tempo al veleno di essere assimilato. C'è qualcosa che si può fare, un intervento di primo soccorso che può salvare il cane nel caso mangi un boccone avvelenato? La prima cosa da fare è somministrargli dell'acosigenata e l'acosigenata aiuta a far vomitare il cane nel giro di poco tempo ed è un buon sistema perlomeno nell'immediato per cercare di evitare che il cane possa assimilare poi il veleno. In giornata per cercare di rinvenire i bocconi avvelenati purtroppo sparsi su alcune aree verdi del territorio è intervenuto il nucleocinofilo antiveleno di Visso chiamato dai carabinieri forestali della stazione di Cartoceto. Le esche rinvenute saranno poi sottoposte ad analisi sia da parte dell'ASUR che dall'Istituto Zooprofilattico. Questi sono cani che sono addestrati a cercare tutta una serie di sostanze, generalmente fanno parte del gruppo di sostanze che vengono utilizzate in agricoltura, più alcune ancora vietate da tempo tipo strecnina o altri prodotti chimici molto molto letali. Cercano il cono di odore che viene emanato o dalla sostanza chimica ma associata spesso a prodotti carni perché sono la parte attrattiva, perché tanto sono rivolti o a cani o ad altri animali tipo i gatti quando ci sono questi tipi di cose in ambito urbano, altrimenti grandi predatori, lupo, orso e quindi entrano soprattutto in quegli ambienti nella catena alimentare e possono arrivare ai rapaci necrofagi piuttosto che altre specie che si nutrono in carcasse. L'accaduto va assolutamente condannato però dobbiamo anche interrogarci su quelli che possono essere stati i motivi e le cause scatenanti che hanno indotto il responsabile a fare un simile gesto ha poi commentato il sindaco di Cartoceto Enrico Rossi. Io credo che talvolta quella che è l'inciviltà, la maleducazione con cui i proprietari purtroppo dei nostri amici a quattro zampe abbandonano gli escrementi dei cani nelle nostre aree verdi sicuramente qualche dinamica particolare poi possono crearla. Da questo punto di vista voglio anche dire colgo l'occasione per comunicare che l'amministrazione sta lavorando anche al progetto di realizzazione di uno sgambatoio dove però accanto possano sorgere anche delle altre attività legate alla pet therapy, al mondioring, all'orienteering e anche all'addestramento dei nostri amici a quattro zampe. Quello che vorremmo, ed è un punto fermo, è farlo assolutamente con la collaborazione di un'associazione o della cittadinanza affinché poi di lì a poco non ci possa ritrovare con un'area verde, con erba alta ed escrementi abbandonati a terra ed è un obiettivo sicuramente al quale lavoreremo. Nel frattempo però il richiamo sicuramente è ad una maggior civiltà ed educazione da parte di tutti i proprietari degli amici a quattro zampe. E la guardia di finanza di Urbino ha denunciato un dipendente pubblico che ha tentato di ottenere indebitamente un computer. Sentite. È stato il sindaco di Mercatello sul Metauro, Fernanda Sacchi, a segnalare alla procura della Repubblica il comportamento di un suo dipendente. Il primo cittadino infatti aveva saputo che l'uomo di 59 anni aveva richiesto di inserire il suo computer privato tra le forniture destinate al comune. Gli accertamenti svolti dalla guardia di finanza di Urbino sotto la direzione della procura hanno permesso di far emergere come il dipendente, dopo aver acquistato un pc per la sua abitazione presso la società incaricata di fornire materiale informatico all'ente comunale, abbia poi tentato di indurre il titolare della stessa azienda ad inserire il suo vecchio computer privo di valore commerciale tra le forniture da effettuare nei confronti del comune per compensare la cifra che avrebbe dovuto pagare per quello nuovo del valore di 700 euro. L'imprenditore però ha rifiutato ed anzi ha informato il sindaco dell'accaduto. Così, non contento, il 59enne si è rivolto ad un'altra impresa del posto che si era già giudicata all'appalto per diversi lavori e qui il titolare ha deciso di fatturare il pc alla ditta di informatica che lo aveva fornito all'uomo. All'esito delle indagini, effettuate anche tramite intercettazioni telefoniche, i finanzieri hanno segnalato alla procura della Repubblica Feltresca sia il dipendente che l'imprenditore per il reato di induzione in debita a dare o promettere utilità. A seguito dell'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini, l'imprenditore ha ammesso le proprie responsabilità e si è prodigato per risarcire l'ente comunale. La procura ha quindi provveduto a richiedere per quest'ultimo l'archiviazione degli atti, richiesta accolta dalle GIP del Tribunale di Urbino, mentre nei confronti del funzionario è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per le due ipotesi di induzione in debita a lui contestate. I fatti sono stati segnalati anche alla magistratura contabile che ora dovrà valutare il danno provocato all'erario. Il servizio era di Filippo Pucci. Adesso la sanità nelle marche oggi è partita la vaccinazione delle persone più fragili. L'assessore alla sanità Filippo Saltamartini ha annunciato anche l'arrivo di altri medici che andranno a somministrare a casa siero anti-covid. Dopo gli over 80 e il personale scolastico è iniziata oggi la vaccinazione dei pazienti in cura e presi in carico dal sistema sanitario regionale. Ad annunciarlo è l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini che con un posto sul profilo facebook è tornato ad aggiornare i marchigiani sullo stato di avanzamento della campagna vaccinale. Per le persone più fragili che sono in dialisi sono previsti Pfizer e Moderna. Inoltre da questa mattina ha preso il via anche la somministrazione del siero a coloro che hanno patologie croniche, respiratorie, oncologiche, cardiopatiche e simili. Non dovranno prenotarsi e non sarà una vaccinazione di massa ma l'inizio di un percorso ha scritto l'assessore. Infatti la vaccinazione che avverrà negli ospedali e nelle strutture Azure sarà avviata d'ufficio. Con AstraZeneca invece si avvia la profilassi per le forze di polizia. Ogni corpo si è auto-organizzato perché hanno i loro medici spiega Saltamartini. Altri invece saranno serviti dalla sanità della marina che ha dato un contributo fondamentale alla regione risolvendo 100 focolai di covid-19 soprattutto nelle case di riposo salvando centinaia di persone. In questo target rientrano anche le polizie locali e quelle provinciali. Poi oltre al settore della pubblica sicurezza per disposizione ministeriale saranno vaccinati anche i detenuti. E' opportuno ribadire specifica l'assessore che l'ordine nelle priorità è stato adottato nella conferenza stato-regioni. Non c'è discrezionalità da parte della regione Marche e la velocità dipende dalle forniture che ancora sono poche. Passando invece alla categoria degli insegnanti e dei professori universitari, detta compresa tra i 65 e i 70 anni, si proseguirà con Pfizer e Moderna. La procedura però è rallentata perché è necessario rispettare l'ordine stabilito a livello nazionale. La priorità infatti spetta agli anziani e che ha patologie. Rimane a disposizione il personale del numero verde, ha concluso Saltamartini, il quale è stato incaricato di prendere nota delle varie problematiche che possono emergere. Infine, accanto ai 40 medici, prevalentemente in pensione, inviati da alcuri per potenziare l'organizzazione vaccinale, presto ne arriveranno altri che daranno manforte anche per i domiciliari. E la regione fa sapere che è stata avviata la procedura di prenotazione tramite la piattaforma poste anche per il personale delle scuole paritarie degli asili comunali. Per facilitare e aumentare l'offerta nei confronti del personale scolastico, verranno incrementati i posti di prenotazione sin dai prossimi giorni. E adesso l'aggiornamento dei dati sul coronavirus. Nelle Marche nelle ultime 24 ore sono morte 9 persone con Covid-19. Nessuno era della provincia di Pesero-Urbino. Rimane alto il numero dei contagi. Nell'ultima giornata ne sono stati rilevati 759. 331 in provincia di Ancona che è seguita da quella di Pesero-Urbino con 156 casi. Calano lievemente i ricoveri in i reparti non intensivi, ma aumentano sia i pazienti in terapia intensiva, più sei rispetto a ieri, che quelli in semi-intensiva. E adesso torniamo a parlare della crisi del commercio ambulante. Dopo il tour di ieri tra le bancarelle del San Decenzio a Pesaro, oggi siamo tornati al mercato settimanale di Fano. Siamo in ginocchio, sono le parole dei venditori ambulanti fanesi che riecheggiano tra le fila delle bancarelle del mercato cittadino in piazza 20 Settembre, semi-vuoto. A metterli in seria difficoltà, in un periodo di guadagni già miseri, contribuiscono i provvedimenti imposti dalla zona arancione, in cui le marche sono piombate lo scorso lunedì. Primo tra tutti il divieto di spostamento da un comune all'altro, che diminuisce ulteriormente l'affluenza al mercato. Ad incidere sulle vendite, secondo molti, è stata anche la chiusura dei bar e ristoranti. Siamo solo persone del centro e i comuni non potendo uscire. Poi parecchie clienti hanno proprio paura di uscire, quindi il lavoro è un terzo neanche di quello che si faceva prima. Quindi è un accontentarsi anche se quant'è la fine ben venga la zona rossa, perché almeno ci mettiamo l'anima in pace. Siamo in stand-by perché non puoi comprare il nuovo e anche magari rifornirsi è difficile. Bravissima, bravissima. Non lavorando non è consigliabile andare a comprare, quindi si sta un po' qui in stallo. Morire lentamente. Una buona parte di persone ha paura, una buona parte di persone non spende più i soldi, perché comunque dove vai? Cosa te la compri? La maglia o il cappottino o il giubbotto o adesso o più avanti non vai a mangiare fuori, non vai in un bar a prendere aperitivo, vai solo a fare delle grandi passeggiate. Noi siamo veramente in ginocchio. Penso che se andiamo avanti così nell'arco di quest'anno il 50% degli ambulanti non riapriranno più come il 50% dei negozianti. La gente non gira, non c'è nessuno, quindi la zona arancione la gente sta a casa, esce se non può fare a meno e purtroppo noi vendiamo articoli che non sono di prima necessità. Quindi per noi cambia poco, essere arancioni o rossi poi alla fine cambia poco. Dalla chiusura dei bar alle 6 di sera, anche quando eravamo gialli, comunque lì si è visto proprio il calo, che la gente non ne aveva più voglia neanche di riflesso, poi ne risentiamo anche noi. Purtroppo è elogorante sta cosa perché dopo un anno mi sento di dire che siamo appunto a capo. All'aperto si dovrebbe stare più tranquilli, comunque vede che di gente non ce n'è. Arancione siamo aperti ma comunque non lavoriamo, poi se col rosso danno i sostegni non lo so. Siamo chiusi 15 giorni, 20 giorni per bene e poi si apre tutto il romano come fosse una una volta, ma il problema non siamo noi, sono i giovani di oggi che non se ne fregano niente, però le conseguenze le preghiamo noi. Comunque sia è un anno che ci sono queste restrizioni, quindi un anno è lungo, quando ti cala il fatturato in maniera 80-90% di incassi fai fatica, si fa veramente fatica. Le spese proprio in generale, chi ha i mutui, chi ha le spese fisse, quelle non si fermano. Siamo messi così, tiriamo avanti, cercheremo di... speriamo in tempi migliori, speriamo che finisca questo incubo. Rimaniamo a Fanno, sono 300 i nuclei familiari che riceveranno il contributo per il sostegno al pagamento degli affitti tra coloro che hanno fatto domanda al bando per l'anno 2020. Le risorse rientrano nel Fondo Nazionale, sono ripartite dalla Regione Marche ai Comuni per sostenere le famiglie e locazioni che si trovano in difficoltà con il canone. Il Comune eroga più di 183.000 euro e gli importi, fino a un massimo di 793 euro, variano in base all'ISEE e alle mensilità di locazione effettivamente pagate. E ci spostiamo a Pesaro dove oggi è stato presentato il progetto di recupero dell'edificio che ospitava il manicomio San Benedetto. La struttura, chiusa da 40 anni, sarà destinata a spazi culturali, uffici dell'Asuri e abitazioni. Il Comune di Pesaro e la Regione Marche presentano l'accordo per recuperare l'area del San Benedetto. Ad illustrare il progetto oggi in una conferenza stampa il Sindaco di Pesaro Matteo Ricci e l'assessore regionale Stefano Aguzzi. Grazie all'interesse dell'assessore Aguzzi della Regione abbiamo trovato subito un accordo con il Comune su come intervenire e abbiamo nel giro di poche settimane definito il quadro dove ognuno sa che cosa dovrà fare. L'Asuri e la Regione dovranno ristrutturare circa 6.000 metri per gli uffici dell'Asuri. Al tempo stesso potranno mettere in vendita circa 1.000 metri di residenziale. Insieme al Comune e Regione stiamo partecipando ad un bando per la parte più importante dell'edificio, quella più imponente che sta sul corso 11 settembre, un bando sulla rigenerazione urbana. Invece come Comune interveremo sull'area dell'ex lavanderia che viene ceduta dalla Regione al Comune stesso. Siamo già lavorando per una variante non sostanziale per dividere l'intervento, un intervento diviso, metà a carico della Regione, una parte insieme Comune e Regione, una parte a carico del Comune che punta ad intersettare le risorse che ci sono. Alcuni bandi scadono già adesso il 16 marzo e quindi incrociamo le dita perché se riusciamo da subito a vincere uno di questi bandi riusciremo subito a partire con una parte degli interventi. La parte che interessa maggiormente al Comune di Pesaro è quella culturale vicino alla biblioteca. La parte invece sul corso, il bando è sulla rigenerazione urbana legata all'abitazione, ci sono però anche diversi interessamenti dal punto di vista del socio assistenziale, socio sanitario. La parte invece di competenza della Regione sono uffici e invece la parte su via Mammolabella sono abitazioni. Parla di circa 40 milioni di euro di investimenti e con i tempi che sono ci sono stati anche alcuni tentativi di asta andati sempre deserti. Le cose fondamentali sono due. Una la disponibilità di Asur che non è sia espressa gli anni dietro in questo modo a riutilizzare una parte di quell'immobile. E l'altra cosa fondamentale è che il progetto che il Comune di Pesaro sta portando avanti, che sarà presentato entro il 16 di marzo, per questo c'è anche un po' di fretta nel farlo, per ottenere dei fondi ministeriali c'è un bando apposito di riqualificazione. Ecco, se questo bando potesse vedere vincente il Comune di Pesaro sarebbe un buon viatico. Non dovesse andare a buon fine, tra virgolette, questo tipo di impostazione in questo bando, rimane comunque valida l'iniziativa perché secondo me da qui alla prospettiva, bandi vari, recovery fund e quant'altro, ci possono essere fonti di finanziamento importanti indipendentemente da questo bando già uscito in questo momento al quale stiamo partecipando. E ci sono buone notizie anche per il Comune di Mondolfo. Dal Ministero dell'Interno è in arrivo oltre un milione di euro per realizzare un nuovo scarico a mare. L'intervento andrà a risolvere il problema degli allagamenti. Era il mese di giugno del 2016 quando Amarotta iniziò la conta dei danni provocati dalla bomba d'acqua. Il Comune di Mondolfo fu il più colpito dal maltempo che si era battuto sulla provincia di Pesaro Urbino provocando allagamenti in diverse zone della città. Oggi il sindaco Nicola Barbieri ha annunciato l'arrivo di importanti contributi dal Ministero dell'Interno per gli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. Un problema annuso ereditato nel 2014 dopo l'annessione della porzione di Marotta che faceva parte del Comune di Fano. Una bella notizia perché abbiamo ottenuto dal Ministro dell'Interno un milione e 375 mila euro per la sistemazione idraulica a protezione dell'abitato di Marotta a nord. Quindi un intervento molto importante richiesto da tanti anni dai cittadini della zona che servirà appunto per risolvere il problema allagamenti. Esattamente dove andrete a intervenire? Andremo ad intervenire con un nuovo scarico a mare su via Corfu, quindi una nuova condotta e gli interventi riguarderanno anche le vie perpendicolari a via Corfu, quindi via Martini, via Ferrari, via Rovani e quindi nel progetto verrà realizzata una nuova linea bianca che avrà una portata molto maggiore rispetto a quella attuale che è sottodimensionata. L'intervento è molto importante perché ci permetterà anche di migliorare la qualità delle acque con la separazione delle acque nere dalle acque bianche. Inoltre l'amministrazione ha intensificato i contatti con RFI per compartecipare a un ulteriore intervento che si renderà necessario l'attraversamento della ferrovia. Sulle tempistiche si prevede l'inizio dei lavori a fine 2021 e poi il cantiere, essendo un'opera molto importante perché riguarderà anche interventi sulla zona mare, su via Chienti, richiederà almeno 12 mesi di lavori. Ancora cronaca perché questa mattina i carabinieri di Mercatello sul Metauro dopo aver visionato le telecamere di sorveglianza hanno elevato una sanzione amministrativa nei confronti di un uomo proprietario di un bar che lo scorso 28 febbraio aveva consegnato bevande alcoliche al di fuori dell'orario consentito dalla DPCM. Il soggetto è stato anche denunciato perché oltre a somministrare le bevande aveva acceso dei fuochi d'artificio o all'esterno del proprio esercizio commerciale che si trova appunto a Mercatello sul Metauro. Sono in fase di completamento i lavori di manutenzione straordinarie dell'impianto sportivo di Cartoceto. L'intervento di oltre 60.000 euro è stato pianificato dall'amministrazione per apportare miglioria alla struttura sportiva che ospita le attività di due società di calcio a 5, quelle del tennis club Lucrezia. La militanza dell'ASD Bulldog Lucrezia nel campionato di Serie 2, spiega il sindaco Enrico Rossi, ha richiesto una serie di adeguamenti che riscontrassero le prescrizioni dettate dalla FIGC per gli impianti che ospitano campionati professionistici nazionali. Nello specifico, evidenza il consigliere con delega allo sport Raffaele Guidi, gli interventi riguardano la realizzazione di un tunnel di collegamento tra gli spogliatoi e il campo da gioco, poi un impianto di ventilazione meccanica finalizzata alla stratificazione interna e all'estrazione dell'aria per evitare la formazione di condensa e umidità, la realizzazione di uno spazio più donio ad ospitare la centrale termica e l'allestimento di uno spazio dedicato all'infermeria. E con questa notizia chiudiamo qua il nostro telegiornale, subito dopo di noi le provisioni del tempo e poi l'incontro che si è svolto a Fano dedicato al piano strategico del turismo 2020-2024. Allora buona serata con i nostri programmi, arrivederci.